Il Consiglio regionale del Piemonte ha aderito alla giornata mondiale per il cuore, istituita dalla World Health Federation il 29 settembre per coinvolgere comunità e istituzioni nella lotta contro le patologie cardiovascolari, prima causa di morte e di disabilità sul pianeta con quasi 18 milioni di persone colpite ogni anno. In Italia le vittime sono 240.000, numeri che potrebbero però regredire adottando nuovi stili di vita. Per testimoniare l'adesione, Palazzo Lascaris, la sera di lunedì 28 settembre, è stato illuminato di rosso, così come numerosi altri edifici nel mondo e a Torino la mole antonelliana. Il patrocinio da parte del Consiglio regionale del Piemonte, ha dichiarato il Presidente dell'Assemblea, si inserisce nel più ampio programma di promozione della salute pubblica che l'ente continua a sostenere con l'intenzione di sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione delle patologie e sul contributo che ciascuno può dare alla salvaguardia della salute di tutti. La giornata mondiale per il cuore assume particolare importanza in questo periodo di pandemia, nel quale bisogna accrescere le responsabilità per la tutela della salute individuale e delle persone più vulnerabili. In Piemonte, con lo slogan «Combattere il virus e far battere il cuore», l'iniziativa è stata promossa dall'associazione italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco, che rappresenta in Italia la World Heart Federation.